Sono passati pochi giorni, dal 27 gennaio, il giorno della memoria, istituito per commemorare le vittime dell'olocausto. Chi quei terribili anni li ha vissuti non può dimenticare tanta crudeltà e sofferenza e i ricordi di chi non c'è più sono custoditi dai figli. Come la storia della fuga per la vita, intrapresa da Carlo Poerari di Pescarolo nel Cremonese, che ci viene raccontata dal figlio Giuliano. Parole che il padre, prima di morire, gli ha riperduto più volte e che racchiudono il dramma che lui e i suoi tre compagni, nel 1944, hanno passato scappando da una caserma di Mantova per evitare di essere portati al fronte, per dare supporto alle truppe naziste a Cassino. I quattro hanno approfittato di un momento di calma in cucina e dopo infinite peripezie sono tornati a casa. A me piace ricordare il papà quando lui raccontava della sua fuga rocambolesca da una caserma militare della provincia di Mantova che è avvenuta tra l'altro in uno scarico della cucina. Uno scarico che poi io ho visto, probabilmente rifatto, sistemato, quello che era, perché qualche anno fa un capitano medico l'ha invitato a visitare tutta la caserma da dove lui era fuggito. Uno scarico grosso, non troppo grosso, ma comunque il quale ha dato la possibilità a una persona di infilarsi, anzi sono fuggiti in tre, lui mi diceva, di infilarsi e riuscire a sgattaiolare all'esterno della caserma. Poi da lì c'è stato tutto il suo rientro a casa, ovviamente in notturna, perché si nascondevano nei campi, negli scoli, giusto per non farsi prendere. Era una cosa triste perché comunque doveva scappare dai tedeschi. Pescarollo nel 2018 ha voluto onorare la memoria delle vittime di tutte le guerre e i morti provocati dall'olocausto, dedicando loro un monumento. Nel 2018 siamo riusciti ad inaugurarlo, da quando è stata ricostituita l'associazione nel 2011, uno dei principali obiettivi era quello di dare al paese un monumento ai caduti che mancava.